Domani i funerali di Micaela, la ragazza di cavi di lavagna precipitata dalla finestra del terzo piano durante l'incendio della Mansalda in Valle d'Aosta, ancora da chiarire le cause del rogo. ATP, giro di vita contro i portoghesi, controlli a tappeto dell'azienda di trasporto locale per combattere il fenomeno dell'evasione. Danino, nuovo allenatore da Rivasamba, l'ex tecnico di Sestilevante Lavagnese, prende il posto dell'esonerato del nero. Buonasera dal TGT Guglio, si svolgerà domani a Chiavari il funerale di Micaela Kelly, la ragazza di cavi di lavagna precipitata dalla finestra del terzo piano durante un incendio in una casa in Valle d'Aosta. La procura intanto di Aosta ha aperto un fascicolo a carico di gnoti per omicidio colposo e incendio colposo. Si svolgeranno domani alle 14 i funerali di Micaela Kelly, la 21enne di cavi di lavagna morta nel tentativo di fuggire dall'incendio di una mansalda in Valle d'Aosta. L'ultimo saluto alla giovane si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari e sarà celebrato dal pastore della comunità del Levante, Genova e Savona, padre Vitali Tarasenko, secondo il rito ortodosso. Il PM, infatti, ha concesso alla madre della ragazza il nulla osta per il funerale. Su Facebook, intanto, un'amica della ragazza, Tatiana Nicolaevna, ha lanciato una raccolta fondi con l'obiettivo di arrivare a 2000 euro e dice «E' un dolore atroce, un dolore pungente per una mamma. Al suo dolore non c'è parola, non c'è fatto che dia un po' di sollievo, ma possiamo stare vicino, in silenzio e aiutarla ad affrontare questa terribile situazione». La procura di Aosta ha aperto un fascicolo a carico di gnoti per omicidio colposo e incendio colposo. Occorre chiarire le cause dell'incendio. Al momento si escludono il camino e la canna fumaria. Abbiamo adesso argomento. Inserire le aree della Fontana Buona, presenti sulla sponda destra del torrente Lavagno, non sembra la migliore delle soluzioni, viste le specificità della vallata da sempre con vocazione agricola, commerciale e artigianale, che punta al rilancio attraverso l'insediamento di attività produttive. Sull'ampliamento del parco di Portofino interviene così il consigliere regionale Giovanni Boitano, che aggiunge «Le criticità emesse sono numerose, sorgerebbero ulteriori limitazioni per quanto riguarda l'attività edilizia, in quanto sarebbero permesse solo piccole ristrutturazioni». Tra l'altro, prosegue ancora Boitano, «Sarebbe vietata la caccia e conseguentemente le battute per limitare la presenza dei cinghiali, che insieme a Daini e Caprioli continuano a creare gravi danni alle attività agricole». E adesso cambiamo ancora argomento, parliamo di depurazione delle acque. Il sindaco di Chiavri, Marco Di Capo, ha visitato gli impianti di Genova V e Recco. Il sindaco di Chiavri, Marco Di Capo, ha visitato gli impianti di depurazione di Genova V e Recco. Il primo cittadino ha sottolineato l'importanza della contropartita pubblica derivante dalla realizzazione di un depuratore di questa tipologia. Abbiamo appurato come gli spazi di copertura dell'impianto possono essere utilizzati per rendere fruibile la colmata, sia per le famiglie sia per i turisti, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Infatti, l'intera area sarà protetta da nuove opere di difesa dalla mareggiata, verrà creato un prolungamento dalla passeggiata con annessa pista ciclabile e realizzati ristoranti e bar, il tutto circondato da un polmone verde di alberi ad alto fusto. I parcheggi, prosegue Di Capo, rimarranno gratuiti ma saranno coperti da una soletta con destinazione d'uso variabile. Il campo da calcio a 11 sarà dotato di spalti a gradoni, diventando così un'arena utilizzabile per concerti ed eventi. Finalmente un pieno di riqualificazione anche per la colmata, ad uso totalmente pubblico, con investimenti per decine di milioni di euro in opere, a costo zero per il comune di Chiavari. Con Di Capo, a Genova Quinto e Recco, anche i consiglieri Alberto Corticelli e Paolo Garibaldi, nonché Sergio Chiappe, delegato comunale Iren Acquatiguglio e Marco Fiorini di Iren. Abbiamo trasformato una criticità in opportunità, la soluzione ideale per quell'area, dice Corticelli. Dopo anni di abbandono trasformiamo la colmata e, come promesso in campagna elettorale, salvaguardiamo il Lido. Restiamo a Chiavari, ma per parlare di tutt'altro, di lavori di riqualificazione dell'incrocio tra Via Prandina e Corso Genova-Via Aurelia. Questa mattina sono partiti i lavori di riqualificazione della rotatoria di Via Prandina e dei marciapiedi della stessa via. Si partirà con la demolizione della fontana e verrà realizzata una nuova rotatoria con i New Jersey provvisoria. Poi, dopo la chiusura delle scuole, verrà realizzata quella definitiva in porfido, verde e luce a LED. Verrà anche realizzato un nuovo marciapiede per la sicurezza dei pedoni che tra Salita Abacesa e Via Privata Paganini e inoltre verranno allargati i marciapiedi esistenti, lato levante e lato ponente di Via Prandina. Verrà regimentata tutte le acque piovane, verranno installate nuove luci a LED e per la sicurezza dei pedoni verranno messi dei paletti in ghisa affinché non possano parcheggiare le macchine sopra i marciapiedi. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto delle cosiddette stragi del sabato sera, hanno denunciato una donna e un uomo rispettivamente di 26 anni di Pieve Ligure e di 22 anni di nazionalità russa. I due, a seguito di controllo alla circolazione effettuata dai militari, sono stati trovati alla guida delle proprie vetture in evidente stato di ubriachezza. L'uomo, tra l'altro, riferiscono sempre i carabinieri, ha anche provocato un incidente stradale. E adesso ci spostiamo a Sestri Levante, dove la minoranza attacca l'amministrazione comunale sulle barche della Baia del Silenzio sulle piscine nelle aree ex-fit. Sempre nella città dei due mari, intanto si sperimenta l'attraversamento che si illumina. Le barche della Baia del Silenzio a Portobello e la situazione della gestione delle piscine nell'area ex-fit. I consiglieri comunali di minoranza Gianpaolo Benedetti e Marco Conti interrogano all'amministrazione comunale di Sestri a seguito delle notizie apparse sulla stampa che parlano di un previsto piano che dovrebbe razionalizzare gli ormeggi in Baia per capire quante barche potrebbero essere trasferite altrove. Senza le imbarcazioni, che comunque sostengono un turismo nautico anch'esso meritevole di attenzione, dicono Benedetti e Conti, non ci saranno comunque maggiori spazi disponibili per la balneazione. Quanto alle piscine, i due consiglieri dicono di sapere che il pagamento dei dipendenti da parte del gestore continuano ad essere regolare e con un'interrogazione chiedono se sia concluso e con quale sentenza il procedimento giudiziaro presso il Tribunale di Genova, aperto dal precedente gestore che chiedeva il rimposso di spese sostenute. Sempre a sesti levati, sul fronte della viabilità e della sicurezza, sta per essere sperimentato il sistema wireless pedone sicuro che rileva la presenza di un pedone in procinto di attraversare la strada e illumina a lei dell'attraversamento, intimando gli automobilisti di fermarsi senza i tempi più lunghi di un semaforo. Sarà installato in particolare in piazza Ponte Santo Stefano all'altezza della scuola dell'infanzia, in via Le Mazzina, l'incrocio con via Torino e da ultimo in via Fascia all'altezza del CAF Cisle. La sicurezza cittadina rientra tra le priorità dell'amministrazione comunale, lo abbiamo dimostrato spesso, commentano il sindaco di San Servante Valentino Aghio e l'assessore comunale Mauro Battilana. Anticipiamo per un attimo la pagina sportiva perché Andrea Dagnino è il nuovo allenatore del Riva Samba, squadra che milita nel campionato di promozione. L'ex tecnico di Lavagnese Sestri Levante ha preso il posto di Davide Del Nero, esonerato ieri sera dopo la sconfitta di domenica per 2-1 contro il Collio Autonovo in trasferta. I Carafatti hanno perso la testa della classifica del campionato di promozione dopo i due capo consecutivi contro Golfo Paradiso e appunto Colli Ortonove. Sono scesi al terzo posto a meno 4 punti dalla capolista Real Fieschi. E ora parliamo del giro di vite di ATP per contrastare il fenomeno dell'evasione. ATP ha intensificato l'attività di controllo per combattere il fenomeno dell'evasione. A fronte dei 9.500 verbali dati nel corso di tutto il 2018, in poco meno di due mesi, nel 2019, il numero di sanzioni date a passeggeri privi del permesso di viaggio è di 2.100. Questo perché sono state rafforzate le azioni giornaliere su tutte le linee. Ogni giorno sono almeno tre squadre composte da tre o quattro controllori che fanno verifica ad ogni ora, ha dichiarato Andrea Geminiani, direttore amministrativo di ATP Esercizio. L'attività andrà avanti con la stessa costanza anche nei prossimi mesi, mentre a marzo si organizzeranno i cosiddetti pattuglioni composti da una decina di agenti verificatori di ATP. L'azienda ricorda che su tutti i 42 mezzi acquistati nelle ultime settimane è stato omologato un sistema di controllo efficiente con un minimo di 5 telecamere di videosorveglianza per mezzo. Chi paga subito può cavarsela con 40 euro di sanzione, che diventano 60 euro oltre al prezzo del biglietto per chi paga entro 5 giorni e 105 euro per chi paga dal sesto al sessantesimo giorno. Trascorso questo periodo di tempo, la sanzione diventa di 280 euro oltre a spese e interessi e viene attivata la riscossione forzosa tramite l'Agenzia delle Entrate. Sul fronte della lotta all'evasione si punta in prospettiva all'introduzione di tornelli. La prima sperimentazione, che interessa sette mezzi sulla linea del Levante tra Sestri, Levante e Rapallo, via Chiavari, sta dando buoni risultati. I tornelli funzionano e i passeggeri intervistati hanno confermato di gradione la presenza. I tornelli hanno in un indubbio effetto deterrente e stando ai primi riscontri non creano problemi o perdite di tempo in fase di salita a bordo, ha fatto sapere ATP. Bene, prima di concludere il nostro telegiornale vi facciamo vedere delle fotografie che parlano della pulizia lungo l'Entella, lato Chiavari, un'operazione che prosegue ed è curata dalla cooperativa sociale Pellicano Verde. La pulizia lungo il fiume che appunto si trova tra lavagna e Chiavari, ma queste sono le foto che riguardano il lato della sponda chiavarese, quindi la sponda di destra, è supervisionata dal direttore tecnico Stefano Gombini. Questa mattina, prima cosa mi presento, sono il nuovo presidente del Tiguglio Motoclub, ufficiale. Stamattina facciamo la presentazione dei piloti di Enduro e di Cross, che adesso abbiamo 27 piloti, penso che arriveremo a 30 piloti, cosa che al Tiguglio Motoclub non è mai successo così. Però devo dire grazie a Stefano Marino che lui è responsabile, direttore sportivo che ha portato tutti questi piloti qua al Tiguglio Motoclub. Noi siamo molto onorati, io ringrazio tutti i partecipanti e i piloti, e poi nello specifico parlerà Stefano Marino, perché le gare di Enduro, quando cominceranno, io non lo so, lui che segue tutto il percorso dei piloti. Sono Stefano Marino, faccio parte del Motoclub Tiguglio e sono il direttore sportivo. Siamo qua oggi in questa spettacolare location che grazie al comune di Chiavari ci ha dato l'opportunità di presentare il nostro reparto corse, che riguarda soprattutto il discorso dell'Enduro, ma anche con qualche pilota della velocità. Ora passerò a presentarvi i piloti di quest'anno, che sono quasi tutti presenti, perché purtroppo per problemi lavorativi o di salute non sono potuti essere presenti tutti. Partirò con presentare Marco Marubbio, due anni che è con noi nel Tiguglio, quest'anno farà il campionato regionale 2019, Ligure, in sala una beta 3,90. Una new entry, vincitore del titolo assoluto del campionato Ligure 2018, Andrea Casaretto, che quest'anno si schiererà con noi nel Motoclub Tiguglio, in sella a una gas gasse 300 due tempi. Parteciperà anche a qualche gara di assoluta e di campionato italiano Ander e Senior. Una nuova rivelazione, dopo aver vinto due anni consecutivi campionato 50, ha fatto un anno di stop e ritorna a correre Simone Tomasino. Quest'anno si schiererà con una KTM 125 e tirerà al titolo di Cadetti 125. Davide Parato, a lui ci voglia un bene particolare, ma ha distrutto 17 moto. Sono 16 anni che è con noi, ci voglia un bene come un figlio. Quest'anno è riuscito a stare dentro ai 10 dell'assoluta. L'anno scorso si può dire che ha praticamente vinto l'AE3. Vediamo quest'anno cosa farà in sala un'onda 250 a quattro tempi. Lui farà l'italiano e assoluti. Foschini-Luca. Foschini-Luca rientra dopo un brutto infortunio di quest'estate, mentre si allenava. Adesso si ricomincia. In sala un'onda 300, si schiererà nel regionale e qualche prova di italiano. Una new entry di quest'anno Simone Federici. Anche lui quest'anno parteciperà al regionale, a qualche prova dell'italiano, in sella a una Yamaha 250 a quattro tempi. Fabio Folli, un ritorno alle gare. Dopo anni che non corre, quest'anno si schiererà nel campionato regionale. Già da domenica prossima. In sala una beta 125. Ritorniamo ai vecchi amori. Di vecchio parliamo, di vecchio rimaniamo. Paolo Giacomini, vincitore del campionato anche dell'anno scorso, 2018. Correrà quest'anno di nuovo al regionale. In sella un'onda 450 2019. Silvio Pascale. Silvio Pascale è già da noi e con noi dall'anno scorso. Ha partecipato agli assoluti. Un piccolo infortunio l'ha tenuto fermo. Quest'anno ci riproverà. In sella una beta 350 a quattro tempi. Vanni Roberto. Vanni Roberto entra a far parte del nostro team da quest'anno. Anche lui ha scelto di correre come me con Gas Gas 300. Cercherà di conquistare il titolo della Veteran 303. Thomas Gesino. New entry, proprio fresco fresco. Lui è un mese che va in moto con noi. Tenterà subito alla prima gara di comportarsi bene e portare a casa qualche risultato. Bacigalupo Matteo. Bacigalupo Matteo correrà in sala una TM 250 a quattro tempi. Anche lui parteciperà al regionale. Cercherà di mettersi in vista perché comunque lui le doti ce l'ha tutte. Ed è vero. Fabio Marino. Mio cugino. Anche lui quest'anno ritorna a correre dopo un anno di stop. tenterà con il regionale e qualche prova di fuori regione con il toscano in sella una beta 430. Il più piccolo della compagnia, Fenera Nicolò, che invece lui parteciperà al campionato cross e regionale classe 125. A 12 anni a lui ci va un applauso particolare. Chiesa Roberto è con noi già da due anni. Correrà in sella una beta 300 due tempi. Dopo aver fatto una piccola esperienza con il quattro tempi, ritorna al due tempi e tenterà il campionato anche lui della Major E2. Nel motoclub di Tiguglio fa parte anche Carmine Sullo, che parteciperà al campionato italiano della montagna in sella a una Suzuki 600. Fa parte anche lui del motoclub. I piloti non presenti che erano invitati anche oggi ma avevano da lavorare sono ancora Ramazzotto Francesco, Vaccarezza Marco, Pilò Manrico, Traversario Aldo, Amodei Nicolò e basta. Noi siamo motoclub di Tiguglio, siamo la sezione dell'enduro. Io ci tengo particolarmente perché questo qua è uno sport che è sano, che tiene i ragazzi sempre in allenamento e non li fa uscire la sabato sera perché la domenica si ha la gara. È un bello sport, invito tutti a provarlo perché quando provi questo sport qua ti rendi conto veramente che cos'è andare in moto e divertirsi. Abbiamo tutto il rispetto della natura perché comunque giriamo i percorsi che sono segnati e puliti. Volevo dire un grazie particolare al motoclub di Tiguglio che mi ha permesso di preparare maglie e pantaloni e aiutare questi ragazzi nelle competizioni. Un grazie vanno anche gli sponsor che quest'anno ci hanno aiutato a comprare questa roba qua. Un grazie va anche a me che ho messo a disposizione camion, attrezzature e quant'altro. Chi vuole avvicinarsi a questo sport mi può contattare, il mio numero l'hanno tutti, comunque è motoresse in carasco. Vi aspetto e spero che il prossimo anno siamo ancora più numerosi. Un ringraziamento particolare a Chiavari, al comune che ci ha dato permesso di fare la presentazione in questa speciale location. Grazie. Dal primo febbraio è partita la nuova ditta per la raccolta della spazzatura. Sicuramente ci sono tantissime novità, tantissime sotto l'aspetto della differenziata, sotto l'aspetto del servizio e sotto l'aspetto del controllo. Perciò io chiedo, proprio non per me, ma per i cittadini di Zoagli, di venire ad assistere a queste novità, perché sono novità importanti per la necessità di collaborazione tra il servizio e i cittadini. Il primo incontro è fatto nelle scuole di Zoagli, il giorno 8, venerdì, alle ore 20 e 30. Sarà riscaldata, ci saranno le sedie, perciò tutto in una forma di comodità. Il secondo incontro verrà fatto in centro, in sala consigliare. Stessa ora, venerdì prossimo, qui, il giorno 15. L'altro, diciamo, servizio, l'altro incontro, viene fatto a Cerisola, presso il ristorante Cerisola 2003, dove verranno divulgate le stesse problematiche, il quarto, il primo marzo, a Sant'Ambrogio, nell'ex scuola di Sant'Ambrogio. Con i stessi servizi ci sarò io che presento, l'ufficio tecnico che spiega, e la ditta che va nei particolari per quanto riguarda la raccolta, la pulizia. Ne approfittiamo e ne approfitto di questa occasione per mettermi, visto che le mie problematiche di salute si sono un attimo stabilizzate, vi ho abbandonato sotto l'aspetto, diciamo, delle relazioni, invece ero sempre presente sul territorio. Sono a disposizione di tutte le notizie e di tutti i particolari al di fuori della differenziata. Grazie. Previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 27 febbraio. Sereno su tutta la regione e ventilazione debole. Venti calmi o deboli di direzione variabile, regimi di brezza lungo le coste, mare poco mosso o quasi calmo, umidità su valori medi, temperature previste sulla costa tra i 12 e i 17 gradi, nell'entroterra tra i 2 e i 18 gradi. Grazie.